San Giovanni a Piro, Salerno. Oggi il via equinozio d'autunno 2024, questa edizione ha come titolo, Tutto Splende. Nato nel 2006, è un evento di musica, arte e cultura che evoca il grande tema dei passaggi e delle trasformazioni, collocandosi concettualmente sul crinale panoramico dei luoghi delle rivoluzioni spirituali, sociali e antropologiche, al fine di comprenderle, decifrarle, infine raccontarle. Il festival ha conosciuto protagonisti assoluti della scena artistico-musicale, Goran Bregovic, Fiorella Mannoia, Patty Smith, Francesco De Gregori, Vinicio Capossela, Daniele Silvestri. Ancora oggi la rassegna cerca ragioni di approfondimento della sua anima e del suo destino, partendo dalla sofferenza delle contraddizioni politiche e sociali, dal ruolo dell'arte nella vita, esattamente come la storia del pintor José Ortega, che rivela il profilo genetico di equinozio d'autunno, con la direzione artistica di Don Gianni Citro. Quest'anno ha anche una sezione dedicata alla formazione musicale dei giovani studenti, con due masterclass, Scuola d'archi e Scuola di canto, in collaborazione con l'associazione Vivaldi di Sapri, per un progetto di ospitalità diffusa, sostenibile ed artistica, al capoluogo San Giovanni, a Piro, sempre più città della musica e dell'accoglienza. Questo il calendario del Festival 2024, giovedì 5 settembre Raisa Bosco. Venerdì 6 settembre Rafa San Giovanni a Piro. Sabato 7 settembre Ciccio Merolla a Scario. Domenica 8 settembre Elio, e le storie tese a Scario.